Ancora ben ritrovati come anticipato nei titoli la cronaca in primo piano con la notizia della morte di due giovani fidanzati di 20 e 26 anni, originari della provincia di Messina, ritrovati in Inghilterra. Secondo quanto trapelato in queste ore la polizia inglese avrebbe fermato un ex coinquilino del 26enne. Sentiamo Mariella Musso. E' un duplice omicidio nel Regno Unito quello che vede coinvolti i giovani originari della provincia di Messina, Francesca Di Dio, estetista, 20 anni, di Montagna Reale e Nino Calabro, croupier, 25 anni, di Barcellona, Pozzo di Gotto. I due ragazzi al momento dell'accaduto vivevano insieme in un appartamento, lei lo aveva raggiunto da poco per le festività natalizie nella città in cui il fidanzato aveva trovato lavoro da tre anni. Le famiglie, dopo diverse chiamate e messaggi a cui non ricevevano risposte, si erano allarmati, avvertendo gli amici del luogo che li hanno trovati senza vita nel pomeriggio di mercoledì 21 dicembre. La diplomazia italiana si è attivata da subito tenendo i contatti tra le autorità investigative locali e i familiari delle due vittime per offrire tutta l'assistenza del caso insieme al Consolato d'Italia a Manchester. Sgomento nelle due cittadine messinesi, i genitori dei due fidanzati hanno già raggiunto l'Inghilterra. Nelle ultime ore un ragazzo di 21 anni, di nazionalità iraniana, coinquilino di Nino Calabro, è stato interrogato. Non sarebbe però lui, ragazzo messo in stato di fermo, bensì un altro ex coinquilino, la quale identità non viene resa nota, ma che secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un ragazzo di origine palermitana. Il movente e la dinamica del gesto non sono ancora chiari.